In questa puntata di Informa con Davide capiremo come riuscire ad avere degli addominali di ferro da esibire allo stadio durante le partite di calcio Addominali, seguite Allora, l'importante dell'addome è tenere mani dietro alla nuca, dritto e venire su L'espirazione è sempre importante, giù Su Andare piano lento dietro, due L'espirazione mi raccomando, sei Senti, ma per non farsi male sulla schiena, cosa è importante? Schiena dritta Vieni dritto E torni dritto Mai farla curva perché c'è pericolo di distrazioni di dietro Di lombi e di tutto il resto Flusso sanguigno Adesso passeremo agli addominali bassi Braccia dritte Allungamento dei piedi Verso l'alto Uno Per avere un muscolo scolpito ancora di più L'addome, la tartaruga è in primis Ma anche per dire quando uno va allo stadio Che è pieno giugno, è luglio Che sta a fine campionato giugno E poi ci stanno le partite amichevoli Che stai sbracciato, vai in trasferta Quando sventi una bandiera Che ti levi la maglietta Che ti vedono tutta questa tartaruga Fatta di bozzi E fatta di quadretti Perché è un quadro, no? È un quadro, è una tartaruga E' facile che c'è stata una telecamera che gira Vedi quello che è fisico Che è l'addome, gli addominali E qui Con questa famiglia che gira Qui ti tocca attaccata a tutto Ma che sta scherzando Vedi questo, ti staccata a tutti Vedi l'addome, no? Mi levo questa maglietta Con questi quadretti Dico io, fermete, no? C'è stata la telecamera Pum, con il zoom Devi addosso Casualmente Ti pia Non l'hai visto mai? Che pure lì Putta una bacchetta in mare, no? Prendiamo il caso di questi due esseri Che l'addominale, come ben vedete Non esistono Sono inesistenti Anche se siete da Roma E vi levate la maglietta E a questo momento Non la potete levare Però quando voi farete un addome Non vedete l'addome Dove cosa fate? La palestra di Davide E per me pubblicità E allora dai Sotto questo addome Che vi ha mangiato? Voi mi dovete dire L'alimentazione Dovete sapere Che è una cosa a primis Ve l'ho detto Sennò a questa palestra Non ci è venire Forza con questo addome Forza con questo addome Dai Forza con questo addome Dai Respirazione Che è in primis L'addominale È una cosa fondamentale È la base del corpo È la base del feto Di tutto La tartaruga Quando voi sfoggiate Sta tartaruga Pure quando andate a mare Ma andate a fatta Sta tartaruga E me l'ha fatta Fatta E poi andiamo Dai Che non c'avete niente Finora Sfondate questo addome Dai Su Giù Respirazione Contrazione dell'addome Contrazione dell'addome Dai Che mi serve pubblicità Pure per me Oltre che vi faccio a voi Belli Una cosa Dai C'avete una rana adesso No la tartaruga Dai Non la tartaruga Non la tartaruga Che mi serve Che mi serve Qui mi serve Grazie a tutti